William Di Marco, conferenza stampa per vedere da vicino la situazione del progetto riguardante il mercato coperto all'interno del comune di Roseto degli Abruzzi. L'idea di riqualificare appunto questa struttura da anni è diventata ormai obsoleta. Far sì che contemporaneamente in superficie ci possano essere dei box in legno e dei parcheggi che messi appunto a 90 gradi riusciamo a trovare posto per 24 macchine. Quindi in realtà una parte del problema dei parcheggi viene risolta e contemporaneamente, anche se si riducono molto gli spazi, viene risolto anche il problema appunto del mercato. Questo è il nostro un po' atteggiamento. Noi vogliamo essere propositivi, da qui in avanti daremo tante altre soluzioni. Il fatto di chiudersi a riccio, il fatto di non interroguire con le persone del posto, il fatto di voler a tutti i costi tracciare una linea che sembra essere soltanto quella. Ecco, noi ci rivolgiamo pure agli altri. Crediamo che non si faccia così. Di Marco, a proposito di identità culturale, Rosetana stasera partirà il primo incontro di Scuola di Politica. Sì, questa è un'altra di quelle cose fondamentali per noi, perché vogliamo sederci e ragionare in merito al concetto di politica. Sapete che, insomma, quando si parla di politica si parla di una serie di discipline che vanno un po' a intercedere con la politica stessa, quindi dalla storia, soprattutto la storia contemporanea, ma anche storia sociale, ma anche storia appunto dei partiti politici, come anche la fenomenologia, per esempio, della sociologia. Sono tutte cose che andremo a trattare nel corso non di pochi mesi, ma di molti mesi, forse di anni, con diverse lezioni. Questa sera si inizierà proprio in una data simbolo per noi, perché è il 17 marzo, quindi il giorno della prima riunione del Parlamento a Torino del Regno d'Italia, quando è un'Italia unita, quindi inizieremo questa sera parlando proprio per le prossime anche due o tre incontri, due o tre lezioni, di cultura. Che significa cultura e come questa cultura può essere integrata soprattutto con i territori.